ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come la sorpresa di pier silvio berlusconi alla sua silvia toffanin ha schiazzato i telespettatori di verissimo mai successo prima pier silvio berlusconi e silvia toffanin sono una coppia rodata e longeva forse tra le più longeve dello spettacolo ma nello stesso tempo cercano di tenersi lontani dal gossip e dalle paparazzate stanno insieme da circa 20 anni e hanno due bambini lorenzo mattia e sofia valentina nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015 non appaiono spesso assieme le foto che circolano quasi sempre sono scatti rubati poiché non amano mettersi in mostra né tantomeno parlare del loro rapporto e della vita in comune solo qualche settimana fa il duo formato dagli scanzonati pio e amedeo hanno voluto che per una volta fosse lei a sottoporsi ad un'intervista e scherzando scherzando le hanno strappato qualche notizia in più la normalità ospite a felicissima sera la conduttrice di verissimo si è trovata dall'altro lato della barricata a dover rispondere alle domande e qui ha ammesso di essere una donna come tutte le altre con un quotidiano normalissimo fatto di spesa cucina poca non è una gran cuoca e addirittura di raccolta punti al supermercato una coppia comune seppur nella sua unicità di persone dello spettacolo e sul matrimonio che ancora non è arrivato ha già speso parole in diverse interviste arriverà forse ma non sente l'esigenza al momento la cerimonia è solo un'aggiunta la cosa più importante è stare assieme scegliendosi ogni giorno liberamente e non perché legati dal vincolo matrimoniale la sorpresa in diretta di pier silvio a silvia toffanin in poche occasioni silvia toffanin e pier silvio berlusconi sono apparsi in tv assieme per lavoro almeno a parte di recente in occasione di una puntata speciale di verissimo dedicata alla scomparsa di maurizio costanzo dove lui è stato ospite e in un'altra occasione più lieta quando la compagna era incinta del primo figlio pier silvio le ha fatto una sorpresa graditissima commuovendo tutti i presenti è entrato in studio inaspettatamente davanti ad una silvia letteralmente senza parole le ha donato tre rose rosse esclamando la prima la conduttrice di verissimo la seconda la mamma che per me è la più bella del mondo e la terza per qualcuno che ancora non conosco che non vedo l'ora di conoscere a cui voglio già un mondo di bene come restare indifferenti grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao